Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Questa sera sono qui per spiegarvi quello che penso in questo momento di S6 per quanto riguarda il sensore d'impronte. Il dispositivo personalmente ha fatto un passo in avanti rispetto a S5 e il sensore d'impronte funziona per me molto molto bene. Purtroppo leggo nei vari forum, nei siti internet che tanti lo tengono sbloccato perché non è abbastanza comodo, perché non è veloce nello sblocco. Io personalmente per come l'ho programmato, per come lo utilizzo io lo vedo molto molto comodo. Adesso vi faccio vedere nel mio dispositivo come si comporta e la velocità di sblocco che ha. Come potete vedere la cosa è abbastanza pratica e veloce e soprattutto almeno personalmente non vedo che il dispositivo faccia fatica ad essere sbloccato con l'impronta. C'è un però che poi vi spiego un attimo più avanti. Allora innanzitutto vi faccio vedere la velocità di sblocco e vi faccio un po' di sblocchi giusto per farvi capire che secondo me va solo registrato in modo corretto l'impronta. Cambio mano in velocità, ho anche la telecamera davanti, quindi può essere che qualche errore in più venga fatto. Ecco per esempio adesso. Ad esempio per quanto mi riguarda ogni tanto mi capita di premere il tasto multitasking mentre faccio lo sblocco e allora mi si apre quello nello sbloccare il dispositivo. A volte è un po' più lento però personalmente nell'utilizzo di tutti i giorni non trovo qualcosa di drammatico in questo da poter tenerlo senza. Anzi lo trovo molto molto utile soprattutto se aggiungiamo il nostro account Samsung all'impronta se ci rubano il telefono senza quell'impronta non riescono neanche a formattare il dispositivo. Allora come avete potuto vedere la cosa ha funzionato molto bene, avrò fatto circa una ventina di tentativi, forse ne ha sbagliato uno. È importante però far cosa? Andare a registrare nel modo corretto l'impronta. Adesso vi faccio vedere come ho fatto io e soprattutto cosa ho fatto per renderlo così preciso. Allora se io vado nelle impronte digitali all'interno delle impostazioni il dispositivo mi dà la possibilità di avere massimo 4 impronte. Ecco è importante che queste impronte visto che sono solo 4 le vadano concentrate su uno massimo due dita così vado a registrare più volte la stessa impronta per dargli la possibilità al pulsante di avere più impronte possibili di quel dito. Quindi più posizioni strane gli faccio memorizzare più facile diventerà lo sblocco poi. Quindi vi faccio ad esempio vado a togliere l'impronta 4 che ho appena aggiunto, faccio rimuovi e vado ad aggiungere una nuova impronta. Come vedete l'aiuto qua ci fa vedere cosa? Di andare a registrare il dito così ma quante volte è che andremo noi a sbloccare il dispositivo mettendo il dito così? Probabilmente mai quello che invece va fatto è mettere il telefono nella posizione più naturale possibile rispetto a quando lo tiriamo fuori per esempio dai jeans o dalle tasche. In questo modo l'impronta registrerà la posizione che utilizzeremo di più e questo porterà a uno sblocco più preciso del dispositivo. Ok siamo arrivati al 100% e la quarta impronta l'ho aggiunta. Adesso sono solo 4 probabilmente Samsung aggiungerà poi la possibilità di avere altre impronte. Adesso torniamo usciamo blocchiamo il dispositivo e proviamo. Come vedete anche adesso ripeto ancora la telecamera sempre davanti non è una posizione super naturale però ne ho fatte una valanga non ne ha sbagliata una. Quindi ragazzi registrate meno impronte e quando registrate registrate più volte lo stesso dito sulle 4 impronte. Questo vi porterà ad avere una quasi assoluta certezza che il vostro dispositivo poi si andrà a sbloccare. Quindi provate anche voi fatemi sapere come vi trovate con questa soluzione. Se il video vi è piaciuto un mi piace ci sta anche e quindi buona serata e ci vediamo in settimana con qualche altro video. Ciao a tutti ragazzi.